BELLA RAGAZZI, BENTONATI qui sul canale Granatz e siamo oggi tornati con un nuovo episodio del prodotto di Vision One come avete potuto vedere non ne abbiamo vinta una Rizzeremo a 0 punti? E' questa la domanda di oggi Si, infatti Stavolta c'è il mio barbo contro che anche lui è abbastanza abbagato Diciamo che l'episodio è quasi in diretta perché uscita quando abbiamo registrato l'abbiamo vaffanculo Lo editiamo e lo mettiamo subito C'è quando usciti, non l'abbiamo registrato oggi non gli ieri come sempre C'è, sti cazzi, c'è che ieri che hanno fatti Ma comunque vai, cercano di vincere questa partita Almeno ne fa un punto Si, oh, da, però, drammano via Non c'è, drammano Che è questo? Eh, che arrivare in marco Si, capito Comunque dai, oh, abbiamo trovato una formazione quasi normale oggi, eh Rispetto a tutte quelle che abbiamo trovato Abbiamo fatto quattro partite Quattro squadre da due milioni abbiamo trovato, cioè Va, 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 vai Corri come il vento, corri Bella Fallo Che no, va bene Ma che cazzo fai? I tasti, porca Eva Ma perché non ha segnato i guai? Non lo so, pertanto era fuori gioco, ma i tasti Non era fuori gioco? Si, ha alzato la bandierina Ma i tasti, cioè, invece che tira, ha accrossato Eh, cianculato Ma che cianculato Ma che cianculato Che c'è sta un buon acqua Bello, 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 bello Oddio Oddio Taccituà Oddio Ma i costi capelli Una vecchia, va, i bianchi Ma davvero I bianchi Eh? No, eh No, no, controllo, prima Porca patoglia Porca patoglia Con questo non si può fa pausa Oh Cioè, vedi, se oggi perdiamo tutta la settimana sconfitta Abbiamo fatto Cioè, è bella Ci seguiamo in molti una settimana In grado, non ci lasciate mai, continuate a supportarci Basta, pomerati i coglioni Vai Barzagli Grande Barzagli Vaffanculo Canto roia Va pure parato Non c'è No, non entrerà mai a valloggi Non c'è un po' proprio Bello Non c'è Ma sono tutti stupidi No, no, no Non c'è un cazzo Guarda la ripresa Fuori gioco Ma come no? Comunque, vabbè Questa partita l'interno stiamo facendo schifo noi Quindi ci prendiamo tutti E Tutti gli insulti ce li prendiamo noi stavolta Quello era mai successo nella storia di FIFA di perdere i 5 partiti di seguito E Sarà proprio così, me sa Sarà difficile di contare Però noi ci stiamo Secondo tempo Se questo si sbriga Forse Si è ansia questo Oddio Se guarda tutti le play Tutte le pause Madonna mia Madonna Dai, cerchiamo almeno di non perdere la faccia No, magari gli riesci a curare la bicicletta Dai, piani, vattene il porto Cioè, non ci posso credere È andato là Oh, ma quanto è stronzo Non riesco a fare un passaggio Non riesco a fare un passaggio Non riesco a fare un dribbling Cioè, zero glorio Vabbè, questo è pure forte, regà Cioè, questo qua, veramente, uno c'è da giocare Non è che non c'è da giocare a FIFA, però Unica nota positiva a Barzagli Sta più a tutto Praticamente Dai, cerchiamo di ripartire La nazione è fatta bene, qualcosa No, vabbè Manco, vabbè Ah, no, vissi da No, ho sbagliato Oh, mamma mia Oh, farciato Comunque, dai, cioè, vedi, questa qui, poco, questa dimostrazione che ci sta davvero male Perché quel tiro entrava sempre 99 parte su 100 non entrava Eh, vabbè Non fa più falli perché sennò ci mettiamo tre ore, quindi, vabbè Bella, bella Che culo Oh, l'ho fatto Oh, è vero Non c'è se credo Cioè, quello prima che ho meritato, l'ho fatto Questo ho sculato giustamente, l'ho fatto Capito Se Detta malissimo Nord Guarda, ho fatto Rettardo Guarda, ho fatto Ciao, giocato Guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda porta pari di aluncia giocciolo no mi diametri le quali mario la cittadina non si passa a mezz'è i cambi e non ho detto alle lecce andiamo a pezzo ovo ovo ricca quando viene ma fatemi e che vuol dire venire di più dai o a fallo santo dio io i miei amici rivolgono e rivolgono e la sua forza da ieri giusto per il mio amico cosa è che tirano c'è stanzi il tuo padre che tira da su un gioco non so se riguarda che apriano mesi e' punizione no 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 rigore rigore piani e c piani piani niente logo settimana nera finisce nera ma non la dira mai la luce dai non ci voglio crede non ci voglio crede settimana nera deve finire nera c'è il cazzo da fare caccia è così questa settimana è andata così al prossimo giorno e vicino tutte ciò è bello che ho seguito con i suoi movimenti ho già deciso di dirà là l'idea rossi non vogliavo guardate che culo che c'ha maria 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 in bocca vabbè settimana ci sta una settimana di sconfitte ci sta chi quando si fa un episodio al giorno quando si fa un episodio in una partita è così ricominciamo perchè non finiamo qui non ci buttiamo giù ricominciamo e vinceremo sicuramente qualche partita perchè andremo ancora di salvarci perchè ce la possiamo ancora fare mancano cinque partite ce la possiamo ancora fare no e vabbè e comunque dai molti ci hanno detto cambiate squadra giocate uno per uno no abbiamo deciso di giocare insieme non cambiamo squadra perchè perchè ci dobbiamo giocare con questa e non abbiamo i soldi per fare un'altra squadra quindi lasciate un like ci vediamo la prossima settimana supportateci e se non ci siete vuol dire che siete degli occasionali capito dovete seguirci sempre con questi trapani che vinceranno ok bella